Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, terzo video della serie Acronimi Informatici, serie in cui andiamo a vedere in maniera molto basilare alcuni tra gli acronimi informatici che utilizziamo nel mondo dei computer. Questi video che io faccio vengono divisi in due parti, una prima parte teorica, una seconda parte pratica, tutto comunque all'interno dello stesso video. Oggi parleremo di GPU. GPU è l'acronimo di Graphics Processing Unit o Unità di Elaborazione Grafica in italiano. Con GPU noi nel parlato possiamo intendere anche semplicemente la scheda grafica del computer. Non è sbagliato, però la GPU è pur sempre comunque un processore e quindi in realtà la GPU è il processore della scheda grafica. Entrando più nella definizione, come dire, completa, possiamo dire che la GPU è il coprocessore del processore centrale del computer, detto anche CPU. Quindi questa è un po' la differenza tra CPU e GPU. La GPU in poche parole possiamo dire che si occupa di generare immagini. La GPU può essere sia integrata che dedicata. Questo processore, la GPU, opera frequenze minori rispetto alla CPU. Conosciamo diversi produttori di GPU. Abbiamo sentito parlare per esempio di AMD, che si occupa sia di CPU che di GPU. Abbiamo sentito parlare sicuramente di Asus e di Nvidia. A questo punto, se vogliamo parlare di GPU come scheda grafica in generale, possiamo ancora aggiungere che una scheda grafica è come può rappresentare come una piccola scheda madre di un computer. Infatti la scheda grafica viene alimentata, ha il suo processore e ha le sue RAM. Vorrei aprire ancora una piccola parentesi per quanto riguarda le RAM della scheda grafica. Attualmente la tecnologia di memoria RAM utilizzata nelle schede grafiche è la GDDR, che è l'acronimo di Graphics Double Data Rate, che ha sostituito una tecnologia precedente che era chiamata VRAM, Video RAM. La memoria GDDR ha fatto progressi da quando è stata introdotta. Infatti si è partiti dalla tecnologia GDDR2, introdotta nei primi anni 2000, fino ad arrivare la tecnologia GDDR6, che troviamo da circa il 2018. Nel mercato informatico le schede grafiche possono avere una grande differenza di prezzo. Possiamo trovare schede grafiche che stanno intorno ai 25 euro, fino ad arrivare ad oltre 11.000 euro. Ma adesso passiamo alla parte pratica e vediamo nel concreto la GPU e la scheda grafica in generale. Ed eccoci ritrovati per la parte pratica. Allora, quando noi apriamo il computer, apriamo il portellone del computer, vedremo una serie di cavi, tra cui la scheda grafica. La scheda grafica è installata sulla scheda madre e nel suo slot il PC Express, come in questo caso. La scheda grafica è questa. Questa è una scheda grafica grande. Abbiamo detto che la scheda grafica può essere o integrata, quindi non la vedremo installata nello slot, o può essere più piccola, come qualsiasi scheda grafica standard. Questa è una scheda grafica che è stata costruita, ecco, prevalentemente per il gaming, appunto, e quindi, diciamo, fornendo delle prestazioni maggiori, è tutta lei, diciamo, più, è strutturalmente più grande rispetto a una scheda madre standard. Ha una scheda grafica standard, perdonati. Allora, la struttura è questa. Allora, diciamo, l'alimentazione generale, diciamo, l'alimentazione principale deriva appunto dallo slot. Lei, prendendo, diciamo, l'energia dalla scheda madre, riesce almeno a girare. Però, in questo caso, alcune schede grafiche hanno bisogno anche di un'alimentazione secondaria. In questo caso avremo bisogno di due cavi di questo genere, che inseriremo in questo modo, per farla appunto funzionare correttamente. Abbiamo bisogno di due cavi così. Questi cavi di solito sono già insieme agli altri cavi dell'alimentatore, però se così non fosse, basta semplicemente comprare due cavi come questi o uno, dipendentemente dalle necessità della vostra scheda grafica e aggiungerle, diciamo, ai cavi già presenti sull'alimentatore. È una procedura veramente molto semplice. Qui vediamo appunto tutta la struttura anche proprio del dissipatore. Qui andremo a collegare i cavi per trasferire l'immagine al monitor. E invece questi due, questi due, diciamo, queste due strutture, che in realtà fa parte di, insomma, diciamo che questi due collegamenti servono per fare questo modo, per garantire il... serve, ecco, diciamo, se andiamo a montare due schede grafiche all'interno del nostro computer. Quindi la scheda grafica è questa, però adesso andiamo a vederla dall'interno. Ecco, per smontare una scheda grafica è comunque un'operazione semplice, nel senso che basterà togliere le viti poste nella parte sottostante della scheda, quindi proprio, diciamo, sulla scheda anziché sulla struttura e semplicemente poi, come in questo caso, ecco tutto che... ecco che la scheda viene via. Questo, diciamo, fa parte del dissipatore. La parte principale, invece, quindi la parte... proprio la scheda grafica è proprio questa qui. Stacchiamo il cavo del dissipatore e concentriamoci appunto sulla scheda. Allora, vediamo, per questo dicevo che la scheda grafica assomiglia molto a una... come a una piccola scheda madre di un computer, perché alla fine ha l'alimentazione, in questo caso anche questa alimentazione secondaria, come abbiamo visto, ha il processore e le RAM. Allora, diciamo, la struttura, ecco, a nudo è questa qui. Questo possiamo dire che è il processore e la GPU, come vedete anche la pasta termica, come abbiamo visto nel video di che cos'è la CPU, e queste, ecco, sono degli esempi dei chip delle RAM. Come vedete ho tolto la pasta termica qui per farveli vedere. Quindi questo è quanto, questo è, insomma, l'argomento che oggi ho portato. Spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio tutti per aver guardato questo video, in particolare gli iscritti, e arrivederci al prossimo video.